Un buongiorno a tutti i bimbi e i loro genitori che frequentano la sezione ragazzi della biblioteca civica di Pordenone. Io sono Francesca e io sono Alice. Siamo prontissime a leggervi una bellissima storia. Che cos'hai lì con te Franci? Dove? Lì con te. Qui? Sì. Ho la brossa speciale delle letture. Oh e cosa c'è dentro oggi? Guardiamo, guardiamo. È una storia che amiamo tantissimo Alice e i protagonisti sono? Prego a indovinare, sono due animali. Due animali? Ma Franci abbiamo tantissimi libri con protagonisti animali. Lui è grigio e grande e lei è piccolina e rosa. Non saranno mica... l'hai capito? Mi sa di sì Franci. Vuoi dirmi che sono... Reginalettina! Noi amiamo tantissimo questa storia che piace sia ai grandi che ai piccini. Parla di una bellissima amicizia tra un elefante di nome Reginalt e la sua amica Maialinatina. Una coppia formidabile con due caratteri molto diversi ma perfettamente compatibili. Bimbi guardate bene l'espressione dei musetti dei nostri due protagonisti e il linguaggio del loro corpo che parla davvero da solo. Siete pronti? Cominciamo! Ho un giocattolo nuovo! Ciao Tina! Cosa stai facendo? Guarda il mio giocattolo nuovo! Mi piace il mio giocattolo nuovo! E cosa fa? Non lo so. Forse è un giocattolo da lanciare! Adoro i giocattoli da lanciare! Tieni! Prova! Oh sì! Zip! Bel lancio! Oh grazie! Oh eccolo! Oh arriva arriva! Oh no! Ho rotto il tuo giocattolo! Hai rotto il mio giocattolo! Il mio giocattolo nuovo! Sono arrabbiata! Oh oh oh! E triste! Sono arrabbiata e triste! Ma 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 mi dispiace! Ti dispiace? Ma molto! Non mi importa! Il mio giocattolo nuovo è rotto! E l'hai rotto tu! Oh! Forte! Forte il tuo giocattolo stacca e attacca! Oh è uno spazzo! Oh ti vettetevi! Oh 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 oh! Stacca e attacca! Stacca e attacca! Vuoi giocare con il mio giocattolo nuovo? No! Non vuoi giocare con il mio giocattolo nuovo? Non voglio giocare col tuo giocattolo nuovo! Oh oh oh! Voglio giocare con te! Gli amici sono più divertenti dei giocattoli! Ti prendo! Non mi prendi! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Gli amici sono più divertenti del mio giocattolo nuovo! Grazie a tutti.